In pochi mesi è diventata la mascotte dell'ospedale di Cittadella. Con la sua presenza discreta e affettuosa è diventata amica di tutti, sanitaria e pazienti. La gattina Polli è arrivata in un freddo giorno di febbraio. È comparsa alla finestra del poliambulatorio, destando lo stupore di operatori e pazienti che si stavano sottoponendo alla vaccinazione anti-covid. Da quel giorno, tutti i giorni, si avvicina per ricevere acqua e cibo. Dopo averla adottata, i sanitari l'hanno chiamata Polli in onore dei poliambulatori. Polli si è affezionata talmente tanto all'ospedale che ha scelto di partorire il suo cucciolo in una sala a parto d'eccezione, il tetto della struttura ospedaliera. Dopo averlo svezzato, il cucciolo di Polli, umiceto dagli occhi cerulei, è stato adottato dall'infermiera Katia e dal figlio Nicola. Ora Polli continua a fare compagnia a tutti con la sua affettuosa presenza alla finestra.